Ripartire con il progetto della nuova Pescara, Florio Corneli, si è perso fin troppo tempo. Ormai è tempo per questa città di darsi una dimensione nuova, per questo territorio di darsi una dimensione nuova, di fare subito un'aggregazione dei tre comuni, che è la cosa più semplice e più rapida da poter fare, e poi andare pure oltre, perché bisogna ricomporre in quanto, noi vediamo una volta c'era un vecchio detto nel mondo dell'economia che diceva piccolo e bello, adesso abbiamo visto che con le prime crisi piccolo chiudono, quindi si richiede oggi aggregazioni, dimensioni, funzionalità di tipo diverso, non solo sotto l'aspetto economico, ma pure sotto l'aspetto delle vocazioni, dei varienti. Voi vi rivolgete in particolare alla regione Abruzzo? C'era un impegno a fare le cose e a farle subito, c'era delle scadenze, adesso questo processo sembra si sia un po' fermato, rallentato sicuramente, mi auguro che non si sia fermato, però noi faremo delle azioni forti nei confronti della regione per dire che si sta perdendo del tempo inutile. C'è stata anche la volontà popolare che si è espressa attraverso un referendum. Noi oggi non dobbiamo più riaprire la discussione se è giusto o se è sbagliato, questo probabilmente lo dovevamo fare prima, oggi dobbiamo dare seguito a una volontà popolare che si è espressa a stragrande maggioranza.